Ovviamente la rassegna stramba non può che iniziare dai vari leccamenti che oggi tutti i quotidiani hanno per il nuovo Presidente della Repubblica che sinceramente ora viene incensato come persona irreprensibile ma fino alla vigilia delle votazioni già veniva messa in dubbio l'integrità del padre che era indagato in odore di mafia ma quello che da giornalistucolo di provincia ma non da leccaculo vi voglio far notare io è che questo signore, questo Presidente è stato messo lì da un Presidente del Consiglio non eletto che è stato messo lì da un Presidente della Repubblica nominato quindi non eletto e nominato al secondo mandato quando la Costituzione italiana non lo prevede, ecco solo questo poi andiamo a pagina 13 così finiamo la polemica sul Presidente e a pagina 13 cosa troviamo? è stato rapinato il generale, l'ex capo della Guardia di Finanza Speciale, ve lo ricordate? ecco questo signore nel 2005 usò un aereo della finanza per trasportare pesce fresco cioè il generale fece trasportare spigole, pesce spigole da pratica di mare a Predazzo dove aveva una festa con gli amici e quindi insomma vedi che alla fine insomma quello che si fa si riha ma vorrei andare ai festini hard di Strauss-Kahn che ancora una volta è accusato di fare carne da macello di ragazze hostess come le chiamano a un certo livello, troie come le chiamiamo noi che abbiamo meno soldi da investirvi quindi sputtanando ancora una volta Berlusconi che vedendosi soffiare anche il ruolo di puttaniere da Strauss-Kahn vede avanzare i giovani perché Strauss-Kahn ha 66 anni a differenza di Berlusconi buona giornata a tutti